Federico Monti, già vice sindaco di Arona, è fatto staffetta con Alberto Guzmeroli e è diventato sindaco con larga maggioranza, vede oltre 4.400 voti. Beh, questo attestato di stima è significativo perché vuol dire che il buon governo è stato premiato, è stata premiata alla continuità perché i cittadini sanno che confermando la nostra giunta, la nostra amministrazione, sostanzialmente avranno sempre la stessa modalità di buon governo. Ma mi sento di dire grazie ai cittadini eronesi che ci hanno ridato questa opportunità e sicuramente non vi deluderemo. Un 11% in più rispetto al 2015 quando le liste erano solo 4 e non 5, quindi questo amplifica diciamo questo risultato. Certo, però sai partire dal vantaggio di 10 anni di amministrazione è significativo perché hai dimostrato che la continuità, la voglia di fare bene, la voglia di far crescere la città e in un momento difficile come quello del Covid essere stati molto presenti e aver telefonato a casa delle persone, aver dimostrato sempre grande presenza e aver lavorato con un grande rapporto con ASL e quindi tenendo sotto controllo tutta la situazione è stato sicuramente un valore aggiunto. Che cosa cambierà da Gusmeroli a Monti per l'amministrazione di Arona? Non cambierà assolutamente nulla perché io sarò il sindaco, non è vero che c'è stato un uomo solo al comando in precedenza e non è vero che ci sarà un uomo solo al comando adesso, nei prossimi 5 anni. Noi siamo una squadra, abbiamo sempre lavorato di squadra. Lavori pubblici, anziani, giovani, quali le priorità? Non ci sono priorità perché la città deve crescere in modo uniforme, quindi noi adesso convocheremo subito l'ufficio tecnico perché il primo documento che noi estileremo è il documento unico di programmazione perché i 5 anni di programma che abbiamo scritto verranno pianificati anno per anno ed inizieremo subito a lavorare per il bene della città, per farla crescere.